buongiorno a tutti prima che ben trovati tanto domani abbiamo 20.000 persone allo stadio già questo è una bellissima cosa per iniziare il cammino in casa poi prima che mi fate le domande solamente me ne farete allora ieri parlando con cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla juventus ed è per questo che domani non sarà convocato stamattina non si è allenato e quindi ora possiamo parlare dell'empoli che credo che la cosa più questo momento più importante comunque abbiamo iniziato ad udine non riuscendo a vincere una partita che si era incanalata bene e domani abbiamo assolutamente l'obbligo di vincere contro una buona squadra una squadra veloce pimpante che gioca un bel calcio e quindi bisogna fare una partita giusta per cercare di prendere tre punti ma direi che stiamo stiamo lavorando bene però è bisogna fare delle vittorie abbiamo giocato la prima siamo dispiaciuti per non aver vinto ad udine purtroppo sono capitati due imprevisti che possono capitare che però non devono capitare più la squadra ha fatto una buona partita è normale che bisogna migliorare se per il gioco al secondo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente come come passaggi e su questo stiamo lavorando sta migliorando la condizione fisica e poi domani giochiamo in casa giochiamo di nuovo davanti al nostro pubblico e così ovviamente ci sarà una bella atmosfera e bisogna essere pronti i ragazzi sono già tutti responsabili è normale che che d'ora senza la con l'assenza di cristiano direi sono sono tutti più responsabili sono dei ragazzi una squadra direi dove ci sono tanti giovani dentro bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista come come ho già detto varie volte ma la differenza comunque la farà quanto più velocemente arriveremo ad un aspetto mentale giusto un equilibrio mentale giusto che ci permetta di vincere le partite e di ricordate gestire le partite nei momenti come come è successo ad udine non sono assolutamente deluso perché cristiano ha fatto una sua scelta poi nella vita le cose passano all'arriventus è passato sivori platini del piero zidane buffon grandissimi campioni passati tantissimi allenatori è una legge di vita rimane l'arriventus che è la cosa più importante che diciamo è la base solida per ottenere risultati poi è stato tre anni ha dato il suo apporto si è messa a disposizione l'arriventus ed ora va via e la vita avanti come normale che sia in partita io non so non so questo dei 100 gol dei tre anni perché ho fatto solo un anno quindi letti due non lo so alcuni non posso rispondere io so solo una cosa che noi abbiamo giocato le ultime due partite abbiamo fatto una di campionato un amichevole che è un test importante con l'atalanta la squadra ha fatto cinque gol però abbiamo subito i tre e come è una regola che ormai vige da quando hanno aumentato il calcio per vincere il campionato vince chi ha la miglior differenza reti quindi se noi invece subire tre subiamo uno o due avevamo tre punti in campionato quindi dov'è che bisogna migliorare i gol nelle gambe la squadra ce l'ha perché comunque c'è la di bala c'è la morata c'è la meccanese la chiesa ce l'ha koluseschi ce l'ha bernardeschi ce l'ha rabiot ce l'hanno difensori verranno un pochino più distribuiti cristiano ha fatto tanto è un grande campione li auguro tutte le fortune del mondo dove andrà a giocare è stato un grande apporto perché comunque nell'anno in cui l'ha avuto direi anche per i ragazzi è stato un esempio e quindi c'è solo da ringraziarlo per quello che ha dato alla vivenza ora